Il Fuzz al Prato vola. Nei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie B di calcio a 5, la squadra allenata da Massimo Zudetic ha superato il Bocca Livorno per 5-3. Una vittoria mai stata in discussione che lancia il Fuzz al Prato in semifinale, dove affronterà in gara di andata e ritorno gli Umbi dei Grifoni. Abbiamo preparato molto bene in settimana la partita, anche memory di ciò che è successo all'andata. Loro sono una squadra forte, l'hanno dimostrato anche oggi, però alla lunga siamo venuti fuori noi e sono contento. Al Palazzetto dello Sport il Fuzz al Prato ha dato spettacolo con le reti di Patetta, Votano, dello scatenato il Gallaffa, ottono una doppietta e Balestri che hanno piegato la resistenza del Bocca Livorno che solo nel finale ha ridotto il passivo. Per Prato insomma una vera e propria prova di maturità. Sì, il gioco si fa duro, come è giusto che sia quando arrivi in fondo a queste competizioni, trovi tutte squadre di livello come lo era il Livorno, come lo siamo anche noi del resto. Abbiamo ancora due settimane da lavorare, noi stiamo tanto bene insieme, non ci pesa, anzi speriamo di riuscire a passare anche il prossimo turno e speriamo di arrivare a giocare la finale, se non sbaglio, il primo di giugno. Partita molto difficile, loro sono un'ottima squadra, hanno 4-5 individualità, sinceramente nella categoria fanno sempre la differenza. Noi siamo stati bravi, secondo me siamo stati molto bravi all'andata, ad affrontare la partita in un campo non semplice, con un grande pubblico, sinceramente uno dei pubblici più belli che ho visto in Toscana in 20 anni, un pubblico allo rosso ma anche molto corretto, quindi anche complimenti al Bocca. Ora il gioco è davvero duro, però io sono sempre dell'ideale importante esserci, poi noi abbiamo le qualità e le possibilità per giocarsela contro qualsiasi squadra, vediamo, però è già penso un gran risultato. Sabato prossimo si replica, semifinale casalinga con i grifoni, per il Fuzz al Prato adesso il gioco si fa duro.